Per il ciclo così italiano Non fai mai nulla di quello che dici Dal romanzo di Margaret Mazzantini Ti chiedi mai come sarebbe stato se invece di mollare avessimo resistito? Un film di Sergio Castellitto Ma quando sono nati i bambini ho paura di tutto Se io avessi avuto una madre come te avrei imparato a rispettare le donne Ma come fai ad essere così bugiardo? Perché sono buono In prima visione Jasmine Trinca Riccardo Scamarcio Nessuno si salva da solo Venerdì 21.15 Rai 3